Ciao, in questo breve tutorial realizzato da Musa Formazione, polo didattico universitario per Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, vedremo come visualizzare gli appelli disponibili. La sezione Corsi permette di conoscere il calendario esami. Clicca su Il mio diario esami. Qui puoi selezionare tutti gli insegnamenti e selezionare solo le sedi di interesse per conoscere quelli che sono gli appelli disponibili presso tale sede. In questo caso vediamo calendarizzati degli appelli, il nome della materia, il giorno dell'esame, la data inizio-prenotazione, la data a fine prenotazione e anche l'anno accademico di riferimento. Vediamo anche la tipologia di prova che in questo esempio è scritto online. Guarda anche gli altri tutorial di Musa Formazione per imparare ad utilizzare al meglio la piattaforma e ricorda che, iscrivendoti con noi, hai sempre a disposizione il supporto di cui hai bisogno, dall'iscrizione al giorno della tua laurea.